Ivorossi, una festa dello sport ormai a Padova si corre in qualsiasi stagione? Sì, è una grande festa che coinvolge migliaia di persone, anche oggi oltre 6.000 hanno girato per le vie della città, qualche problema inevitabile c'è stato anche perché quando sono numeri così importanti qualche problema col traffico c'è, però io penso che è una città grande in cui succedono più cose e deve condividere le tante esigenze, le tante istanze, è stata una bella festa, ce l'ho fatta persino io. Tempo personale? Due ore e venti, non è quello che uno lo fa per partecipare, mai come in questa occasione vale il motto di De Coubertin, partecipare e non vincere.